ciao sono giuseppe del modellismo sant'alessandro benvenuti sul canale del modellismo italiano oggi vi presentiamo un bellissimo kit una barca della sergal che è la giamaica la giamaica è un bellissimo kit barca a vela di cui abbiamo grazie al nostro cliente l'esempio della barca costruita qui la potete vedere nei minimi dettagli è un mezzo eccezionale anche con un soprammobile di qualità veramente adesso vi facciamo vedere com'è l'interno del kit e i particolari della nave già costruita no 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 Se il nostro contenuto vi è piaciuto venite a trovarci in negozio dove potete vedere tutto il nostro assortimento di barche che sono qua da vedere oppure venite a trovarci sul nostro e-commerce shop-modelsantalessandro.com Vi aspettiamo e provate a costruire la Giamaica Grazie a tutti Grazie a tutti